Condivido, spero di sì, non è malandato perché per quello che sto facendo come nel mondo dell'arte contemporanea in questo momento si vede, penso che abbiamo, se andate a guardare un po' sui siti, su internet, sui giornali, sui libri, hanno visto il mio nome magari, penso che sia funzionato così, io non lo so perché non c'ero quando l'hanno scelto, quindi magari lo dovete chiedere a loro. Il mio sito è www.andreamastrovito.com, in questo momento ho un'ontologica alla Casa dei Giovanni Testori Innovate Milanese, ci sono queste 20 stanze con 20 installazioni e 70 opere. Al contempo, dopo domani inauguro il Museo del Novecento in Piazza Domo Milano e poi ci sarà il Biennale dei Giovanni di Monza il 14 aprile. In questo momento queste tre mostre e più, adesso in corso una mostra 1020 a Milano, una mostra sui video. Quindi ci sono questi quattro appuntamenti in questo momento, poi più avanti non lo so neanche io. No, in pratica lavoro con tutto quello che mi capita, che sia il collage, che sia la pittura, che sia il disegno, che sia l'installazione, che sia la performance, che sia il teatro, che sia davvero tutto quello che mi presenta l'ambiente in cui metto a lavorare diventa materia da sviluppare. Cerco di sviluppare in pratica i legami fra le cose, cerco di far parlare i muri, di far parlare gli oggetti, di far parlare anche le persone che vengono a lavorare con me. E poi cerco di fare sì che il pubblico, ad esempio, diventi parte del lavoro, il più spesso, il più possibile.